GF VIP, Giulia Delellis beve dal bicchiere di signorini, i fans delusi VinZuiden Andrea Damante fa una dichiarazione damore senza voce alla sua Giulietta, il particolare che delude i fans del Grande Fratello VIP 2. . Lunedì scorso, è andata in onda la dodicesima diretta del Cancelletto Grande Fratello VIP, che ha visto ben tre concorrenti uscire dal gioco del reality più amato dagli italiani, a poche ore dalla fine della semifinale del GF VIP 2, Cancelletto Alfonso Signorini e Dilari Blasi hanno avuto accesso a sorpresa nella casa più spiata dItalia. . Giulia festeggia con signorini, la reazione dei fans. In data 27 novembre 2017, è stata trasmesse in prime time la semifinale del Grande Fratello VIP, il reality show che continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. . Non a caso, a tenere banco nel mondo dellinformazione made in Italy sono soprattutto le notizie di gossip concernenti i concorrenti VIP della seconda edizione del celebre format condotto dalla bella Ilari Blasi con lo collaborazione speciale dellopinionista Alfonso Signorini. . La dodicesima diretta del GF VIP 2 è stata ricca di colpi di scena ed ha visto le eliminazioni di Ignazio Moser, Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio dal fortunato gioco della casa più spiata dItalia. . A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata del GF VIP 2, i conduttori del reality, Ilari ed Alfonso, hanno avuto accesso a sorpresa nella casa del Grande Fratello, nella quale i presentatori hanno avuto modo di brindare insieme ai coinquilini, video virgola della casa capitolina, in vista della tredicesima ed attesissima puntata. . . Brindiamo tutti insieme, ma Giulia beve dal mio bicchiere, queste ultime parole sintetizzano il messaggio espresso dallopinionista e co-conduttore del GF VIP, Alfonso Signorini, il quale ha voluto così suggellare la pace con lesperta di tendenze. . Nel corso della diretta della semifinale del reality, la bella e tenebrosa cancelletto Giulia Dellellis ha ricevuto un'inaspettata sorpresa da parte del suo amore. . 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